Ciao a tutti, sono Spiegeramontato e benvenuti a un nuovo video qui sul mio canale. Come vedete siamo su Techcraft, siamo nella puntata 23 e in questa puntata dobbiamo finire innanzitutto da farm perché se vi ricordate nella scorsa puntata in pratica non sapevamo come alimentarla perché abbiamo messo uno steam engine che andava a carburante e l'avevamo messo come carburante il legno, cioè metà del legno che produceva, solo che non ci andava perché ci prendeva molto il legno e ne serve il legno, quindi abbiamo messo del coal momentaneamente. Ci ho pensato, ho detto, ma ho notato che se noi andiamo qui per esempio, adesso vi faccio vedere, se noi andiamo nella nostra farm di lana qui, abbiamo abbastanza lana che si ferma qui, quindi vuol dire che stiamo producendo un bel po' di energia, abbiamo tutti i macchinari pieni di energia, quindi vuol dire che comunque ne abbiamo da vendere insomma. Ecco, allora perché non sfruttarla? Stavo cercando un metodo per trasportare l'energia, ci sono i Tesseract che sono questi, vediamo un po' se è cambiato il crafting, se ci sono ancora naturalmente, sì. Eh, Tesseract, adesso sono unici. È vero, è vero, mi sono ricordato, allora, beh. Ah, ci vuole, no, innanzitutto iniziamo a vedere con questo, ah, come si fa questo? Enderium Aengoth, Arnett Glass Diamond, ecco, sono un po' difficili da fare, eppure ci sono le pipe, come si chiamano le, devo cercare ora, no, vabbè, mettiamo la logistics. ecco, sono, ah no, non è della logistica, aspettate, pipe, eh, due, tre, quattro, ah, eccoli qua, waterproof kinesis, quali sarebbero questi, giusto? Sì. Ok, i Fizer Transport Pipe, come si chiamano? Ah, con la Diamond e la Glass, è quello che dovevamo fare la scorsa puntata, se vi ricordate. E mi sa che utilizziamo proprio questi, perché, possibilmente, trasporteremo l'energia da qui alla farm, senza nessun cavo in mezzo alle bolsa, anche perché costano bel po' i cavi. Quindi, niente, adesso dobbiamo trovare un modo per ottenere quei diamanti, visto che, eh, non ne abbiamo, oh, no, aspetta, come non ne abbiamo? What? Non ne abbiamo? Ah, vero, le avevamo usate per fare la Turtle. Quindi, Diamond, riprendiamo da ricercare l'altra volta, no, aspetta, me lo ricordo. Gold, ce ne abbiamo poco, Iron pure. Quindi, come facciamo, Diamond Dust, si può ottenere? No, il Diamond, come si può ottenere? Riprendiamo la cosa dell'altra volta, Diamond Shark, che ci danno queste bastarde, non ho voglia di fare api in questo momento, prima o poi le faremo, però non ora. Diamond Nugget. Probabilmente lo terremo soltanto scavandolo, quindi, oh, anche nel Nether. Quindi, niente, mi sa che vado a ricercare i diamanti. Torna frappè. Eccomi qua. Allora, ho trovato i diamanti, ho trovato sette se non sbaglio, sì. Ho trovato anche un altro po' di roba, in realtà l'ho trovato... Brutto bastardo di un... Oddio. Dove sei? No, non voglio far un culo. Dormo. Ah, già, sono un pipistrello. Allora, ho scusato un attimo. Eccomi qua, scusate, dicevo. Però non mi ricordo più. Mi dispiace. Ah, sì. Allora, ho trovato dei diamanti, ho trovato un bel po' di robetta, in realtà. Allora, mettiamo diamanti. No, i diamanti ci servono. Ci servono due, facciamo, dai. Questa roba la possiamo mettere... Allora, ho molta cobblestone, d'altronde. È normale. Però, vabbè. Grazie per tutti gli allarmi, antifurti, sirene che ci sono in questo momento. Materiali da cuocere. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Anche questo è da cuocere, tra virgolette. Chi merite, cos'è? Non lo so. Dark Iron Ore. No, scusa, un attimo. Adesso li trovi così. Wow. Non ci credo, che figata. Pensate che prima per farli dovevo fare un casino di roba con i diamanti. Non avete idea. Allora, sì. I diamanti sono questi. Quelli che ci servono sono questi. Gli altri li ho messi a posto. Iniziamo a fare quella robetta lì. Come si chiama? Mi sono dimenticato. No, pipe, comunque. Era la terza o quarta pagina. Quarta pagina, ecco qua. Devo fare il Fazed. No, i Kinesis. Che si fanno con i Fazed. Che si fanno con due Diamond Gear. Ci sono otto diamanti per uno. No, non ci credo. Non ci credo. Ah, un pezzo. No, guarda quanta roba. Dove avercela qui, la cosetta. Ah, c'è ancora il crafting aperto. Lo lasciamo aperto così se ci dovesse servire. Allora, così. E così. No, ma siete delle... Posso dire che sono delle troie? Uno. Due. Tre. Così si fanno due blocchi. Due lingotti. Ma sono delle troie? Prima ti davano dire tanto un lingotto. Che cazzo. Quindi ci servono... 27 pezzi di Iron. Alla faccia del cazzo. Oh. Ecco. 27 pezzi di Iron. Alla faccia del azzo. Perché ce ne rimangono altre in più? Ma perché Filosofa Stone devi andare... Ti odio. Nel profondo del mio cuore. Andiamo un po'. Ok. Poi mettiamo la Filosofa Stone e ci dà un Diamonds. Adesso ne abbiamo otto. Chiamali in cuore, devo sprecare... Oddio, santo. Non era questo quello che volevo fare. Olè. Questo lo lasciamo così. No, non volevo togliere quel crafting. Infatti non lo toglierò. Ciao, 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 ciao. Sì, devo fare le rotelle. Le rotelle? Le rotelle. Di... Force. Abbiamo il Force? Oh mio Dio, abbiamo il Force. Però com'è che si usa? Cioè, com'è che si fa l'ingotto? Non si può mettere una forna... Magma Crucible. No, questo, come si fa? Macerator, no. E che roba è? Non si può cuocere. Tu cosa sei, Electric Furny? Vi studiamo un po'. Ma siete i bastardi allora. Quindi? Questi come si fanno? Red Mob in Gotham. Due Steel. Quanto sto soffrendo? Silver, va bene. Ah, va bene, qualsiasi minerale. Ok, perfetto. Minerali... Eh, va bene. Copper. Spero che vada bene anche il Copper. Sì, che ti va bene. Me lo sento, che ti va bene. Oddio, oddio. Sono dei propri... Sono proprio dei... Come si può dire? Bastardoni... Bastardi? Sì? Bastardi. Eh, no. Un altro allarme, no. Che palle ho. Silver, Steel. Steel no. Lo Steel no. Bronze. Iron, Gold. No. Silver. Non dovrei avere Silver, giusto? No. Ne ho pochissimo. Vabbè, lo sacrifichiamo. Cosa volete che vi dica? Ci servono otto lingotti. Quindi vediamo un po'. Tre, sei, nove. Ok. Poi, un, due... Ok. Questi li possiamo rimettere a posto. Uno, due e tre. E allora dobbiamo fare le rotelle di... Non mi ricordo. Che memoria proprio, forse. Ah. Di stone. Quindi di... Ok, dai. Abbiamo otto... Otto sticks. Non abbiamo legno. Ah, ok. Eh, oddio. Non è che sia molto, eh? Rotelle. Oh, quanto odio questa storia. Dov'anni più chest. Anche se l'altra tra qualche tempo non ci serviranno più le chest. No. Con lo stone. Eccola qui. Eh, eh, eh. L'ottava. Allora, cosa stiamo facendo ora? Eh, facciamo le due rotelline, eh. Le trasformiamo in stone. Che bollo su usare questa craftable tipo portatile, cos'è? Crafting. And, eh, qual'era questa? Sì, che è questa. Stone le mettiamo qua, diventano di force. Poi le mettiamo così, diventano di diamond. Eccole qui. Diamond gears. In mezzo ci dobbiamo mettere glass. In realtà ce ne deve sta... Ah, no, no, va bene. Eh, glass. Glass se richiesto alla cassa ti odio. Non abbiamo glass. Ah, perché non abbiamo mai glass? Sabbia? No, non ne abbiamo. Limestone sand. Eh, magari mettiamo un bel po'. Così non ci scusciamo più. Qua dobbiamo mettere degli upgrade assolutamente, perché è impossibile stare così. Ok. Crafting table, scusate un attimo. Eccomi qua. Allora. Mettiamo questo qui. Oh, phaser transport pipe. Poi, con due pezzi di redstone. C'è una quattro, che mortaccio. Con due pezzi di redstone. Li trasformiamo in... Phaser kinesis... No, phaser kinesis pipes. Uno lo dobbiamo mettere qua. Spero che sia compatibile con questi tubi e... Questi qui, insomma. Allora, fatemi vedere. Ti odio. Come non ho mai odiato in vita mia. Non mi sento di quanto sto odiando questa merda senza senso. Ah, ok, ok. Ma allora si attacca? Non c'è l'animazione, però... No, non ci siamo capiti. Allora, send only. Reserve only. Send... Ok, send. Private, non mi interessa. Frequency 1. Vediamo un pochino se funziona. Ah, già. Diventerò una farfalla. O un pipistrello, magari meglio. Pipi, pipi, dove sei pipi? Bat. Bat. Che tra l'altro mi è stato molto utile nello scavare per i diamanti perché... A parte il fatto che posso volare. E poi è alto 1, cioè... Più comodo di così. Pronto a testing. Oddio, perché sta lavando così? Vabbè, sta caricando il chunk. No. E come faccio ora? Quanto odio. Fatevi pensare. No, mi sa che devo andare un attimo nel mondo in creative. Allora, questi dovrebbero portare... Additional pipes. Dovrebbero portare... Aspetta, non è che portano quelle dell'industrial craft. Io mi sa che qua si collegavano. E questa è un'uscita, giusto? Eh, porca da puttana. Send only. Frequency 1. Vediamo un pochino una cosa. Stato sta lagando come un maiale. Non capisco il perché. Smettila di lagare come un maiale. Ah, lo so io, scusami. No, non era quello. Però sto provando un'altra... Un'impostazione nuova. Vediamo se funziona. Allora, nel frattempo... Prendiamo il tubetto. Lo mettiamo nel coso che taglia la roba. Circa. Dove ti trovi il coso che taglia la roba? Eccolo qui. Lo mettiamo così. Così. E le diciamo... Resave only. Più uno. La riceve di energia? Vado a suicidarmi. Fail number one. Ma che balls. Quindi mi tocca fare il tesseract. Veramente. Dai. Ma non è giusto. Vi adio tutti. A meno che... Aspettate, mi sta venendo in mente una cosa. Sì, sì, potrebbe andare. A parte... Oh, sta laggando. Peggio di prima. Ok. One and two. Se io usassi uno di questi cosi solo per la farm... Oh, magari. Fermi un attimo. Ancora meglio. Vi servono dei pipes, però seri. Dei pipes belli. Quali sono i più belli? Quelli naturalmente per trasfattare energia. I golden. Ma io non ho gold. Anzi, sì. In realtà, sì. Perché ho raccolto un po' di... Eh, vabbè. È poca. Peccato. Ma si fa solo un altro, bastardo. Un altro ce l'ho. Ce l'ho, l'ho visto prima. Ho l'ho usato, l'ho usato. Roba da cuocere. Ho del gold. Non ho del... Sì che ce l'ho, del gold. Ma ho il maceratore. Tu cosa sei? Sagmill e tu... Metallurgic Infuser. Vabbè. Ne cuociamo solo uno. E le altre magari... Li sistemiamo dopo. Quanto sto... Cioè, sono un po' incazzato. Perché non me lo aspettavo. Devo dire la verità. Sono rimasto male. Minecraft de merda. In realtà, mod de merda. Ma perché devono sempre complicare le cose? C'è il tipo che un giorno è bellissimo. Un giorno dopo fanno un aggiornamento. E ti fottono alla grande. Allora, vi spiego cosa voglio fare. Cosa voglio provare a fare. Ah, glass. Ce l'abbiamo addosso? No, l'abbiamo messa a posto. Un'altra ambulanza. Buongiorno. One and two. Golden Transport Pipe. Ora. Redstone. Golden Kinesis... Golden Kinesis Pipe. Come cazzo si chiamano? Insomma, faremo... Faremo... Così. Poi ci mettiamo questo. E le diciamo... Ehi. Perché non stai producendo? Perché non c'è richiesta, forse. Le dico... Send only private frequency one. Ora. Mio Dio. Oddio, che succede? Sta laggando come un maiale. Oggi aveva puntato il lag. Non succedeva da un bel po'. Smettila di laggare. Smettila. Ah, se andate che dormo... Ah, che palle. Oddio, cosa ho fatto? Oh! Sì, com'è che si fa? Ah, così. Allora, vado a nanna. Poi vi spiego. Ah, frappe. Allora, è passato il tempo dall'ultima clip. E... E niente, siccome dovevo ricontrollare l'ultima cosa che avevo fatto, ho riguardato l'ultima clip. E nell'ultima clip ho notato che non si collega. Forse perché sono di mod diverse e quindi non sono compatibili. Quindi che balls. Non so come fare, capite? Cioè, proprio sono spiazzato. Sto pensando di fare delle cosette, ma... No, che palle. Ma perché mi deve sempre rovinare tutto? Oh, no, Minecraft. In modo di merda che non sono compatibili, ma perché? Allora, fatemi pensare. Devo passeggiare per pensare, capite? Mi serve qualcosa che produca energia in modo praticamente gratuito. Gratis. Gratis. Come posso fare? Qual è la cosa che mi dà energia gratuita? Vediamo un po'. Vediamo i... Come si chiamano? Come si chiamano? Come si chiamano? Engine. Vediamo un po' che engine ci sono in questo modpack. Allora, c'è... Lo... Hobbyist Steam Engine che richiede materiale. Commercial Steam Engine. Mi sa anche quello. Industrial Steam Engine. Redstone. Stirling. Stirling. Combustion. Electrical. Electrical. Pitfired. Pitfired. Biogas. Clockwork. Ah, no. L'avevo fatta all'inizio, mi ricordo. Force Engine. Questo fa molta energia, solo che richiede force. E non ho tutto questo force. Anzi, non ne ho praticamente niente. Kinetic Engine. Clockwork Engine. Aspettate un attimo. Clockwork Engine. No, forse... Forse mi sto sbagliando. Faccio una ricerchina sulla... Sulla... Wiki e torno a... A frappè. Eccomi qua. Mi sono appena ricordato una cosa. Questa. No, non c'è bisogno di andare là, ve lo posso spiegare a voce. Insomma, qualsiasi pipe sia, con la mod della Billcraft Transport, adesso si chiama così, Semplicemente bisogna mettere prima quelli di legno, sennò non si collega. Che coglione, che coglione. Quindi, ehm, come si chiamano, come si chiamano, vabbè. Transport Pipe. Dobbiamo innanzitutto fare, non transport... Eh vabbè, tanto è la base per fare quelli. Non closed, ma... Force, 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 dov'è? Wooden Transport Pipe. Due legni e un glass. Quindi è abbastanza semplice. Allora. Ha un glass, è qui. Eh, wooden, wooden, wooden. Scusate un attimo. Eccomi. Scusate, ma sto testando delle impostazioni diverse dal solito. Eh, comunque... Aspettate che... Ok. Avevo un microfono messo male. Cosa dovevo prendere? Eh, legno, sì. Due pezzi di legno. Eh, li mettiamo qui. Un, due. Questo è il centro, li prendiamo. Poi prendiamo della Redstone. Ci servono... Eh, tre tubi. Giusto, ci sono... Quanti ce ne sono di alimentatore? Come si chiamano di... Allora, adesso vediamo. Allora, cosa dobbiamo fare? Eh... Aspettate un attimo. Eccomi qua, scusate. Crashato Minecraft. Allora, è meglio smettere di provare l'impostazione. Allora, one, two, and three. Perché fa così? Ehi. Sì. Facciamo così, 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 e così. E poi mettiamo il cosino qui. Eh, scusate. Allora, le diciamo. Eh, send only, private. E mettiamo frequency 1. Allora, quindi abbiamo detto, invia soltanto, invia l'energia. Eh, privato, vabbè, lo si può mettere anche in pubblico qui. Perché comunque è un... C'è il gioco solo io e... Con Dexter. A proposito, Dexter non c'è in questo episodio perché sto registrando alle 2 di notte. E non volevo disturbarlo. Non so neanche se è sveglio. In ogni caso, frequency 1. Non... Ci sto mettendo molto per quello perché... Non posso fare troppo chiasse, quindi... Cioè, cerco di parlare a voce abbastanza alta, ma neanche troppo alta. Perché se no poi mi... Mi... Come dire? Mi inculano, ecco. A pressione. Si direbbe. Allora, proviamo a dare energia a Akatsium. Ma adesso ci sto pensando. Ma si attacca! Si attacca! Recivi energia, bastardo? Perché no? Vabbè, fermi un attimo. Allora, io tolgo questo. Mamma mia, sto casino. Ho la chiave inglese e non ce l'ho. Ok. Prendo questo. L'attacco direttamente qui. Le dico. Resave. Frequenza 1. Perché no? Gran filo della mignotta, te lo posso dire? Io non mi ricordo come funziona, però... Non mi ricordo proprio, cioè, 0. Ma questi che energia fanno? Aspetta. RF. Ecco perché. Però potrei sfruttare quei converser che ci sono qua sotto. Adesso vi faccio vedere. Quelli che avevo fatto per mettere quei macchinari. Che cambiavano da RF a Billcraft e da Billcraft a Industrialcraft. Giusto? Dovrei tipo mettermi da pipistrello. Allora. MJ consume. Mega, mega Java. Minecraft Java, ecco. Poi, Energy Bridge. Poi, ecco anche... Aspettate. Io adesso non so che cosa... Se questi funzionano solo con la... Oh. Aprovi un attimo. No. No. Invece qua... Qua si collega. Però non è l'uscita, quindi non dovrebbe andare... Eh, sì. Adesso... Adesso stoppo. Calmo. Allora. Fatemi togliere un attimo l'Energy Bridge. Un attimino. Voglio vedere una cosa. E anche questo. Spero che non si... Incazzi, diciamo. Allora. Facciamo così. Questa è un'uscita. Le diciamo Send Only. Frequency One. Andiamo un pochino. Eh, pipistrello. Dove sei? Se funziona così, finiamo bene la puntata. Perché il tempo è finito. Credo che ho fatto una puntata abbastanza lunga. O forse... Ho un'impressione. Io ci ho messo tantissimo a registrarla. Ah, a proposito. Oddio, sta laggando come un maiale. Quindi probabilmente avrei iniziato a tagliare i alberi. Speriamo. Allora. Fanculo, va bene. Fanculo. Dicevo. What? Eh... Thumbs up. Poi ci in su perché questo è il mio primo video di domenica. Cioè. Voglio dire. È emozione. Va bene. In ogni caso, io chiudo la puntata qui. Troverò un modo per passare l'energia là. Lo troverò. Eh... Niente. Io sono SpiegeronTotto. Se il video vi è piaciuto mettete un piacere, iscrivetevi, condividete. Vi trovate sempre su Twitter, Google Plus o sul mio sito spiegeronTotto.x10.mx o su Facebook digitando facebook.com slash spiegeronTottoOfficial. Io sono SpiegeronTotto. Ciao a tutti. Ci vediamo nel prossimo episodio di Techcraft. Ciao. Ciao. Grazie.